Per quanto riguarda i cosiddetti esiliati del 2015, furono assunte quasi 10.000 persone, 10.000 docenti. Una parte di questi devono ancora tornare nelle loro regioni e province di residenza. Cosa avete intenzione di fare per venire incontro alle istanze e esigenze di questo personale, tra l'altro assunto, con un algoritmo che è stato tecnicamente dimostrato errato, sbagliato. Questi sono i paradossi del sistema anche amministrativo italiano, per cui la mia totale solidarietà ai tanti docenti che devono fare chilometri, chilometri, centinaia di chilometri a volte per recarsi dalla propria area di residenza presso le scuole dove lavorano. Io ho chiesto da subito che venisse, prima di tutto mi venisse spiegato come si erano realizzati a questa situazione incresciosa e poi che si cercasse una soluzione per questo problema che fosse una soluzione efficiente, efficace e ragionevole. Voi potete immaginare che c'è anche una situazione di fondo molto complessa nel nostro paese e cioè, per dirvi una cosa che sappiamo tutti, gran parte degli insegnanti vengono da alcune regioni e gran parte dei posti nelle scuole sono in altre regioni. Questo è un problema del nostro paese endemico che si è aggravato nel tempo, anche perché le disuguaglianze economiche portano molto a questo, cioè che in alcune regioni è difficile trovare gli insegnanti perché le opportunità di lavoro sono altrove e in altre regioni, mentre in altre regioni è molto più semplice o meglio l'insegnante è una di quelle opzioni più a portata di mano per tanti, persone molto molto competenti, tra l'altro che fanno grandi anche le regioni in cui lavorano, spesso non sempre apprezzate fino in fondo. Per me è importante da un lato garantire la continuità didattica, garantire che la scuola italiana tenga e al tempo stesso rispondere a queste esigenze. Quindi non ho voluto agire di getto, non ho voluto improvvisare, è una situazione complessa che prevede un marchigegno, un meccanismo molto complesso, quindi ho chiesto al Ministero da subito di portare, di darmi delle indicazioni su cosa si può fare e le stiamo studiando in questa fase. Devo dire che per un anno e mezzo il precedente Ministro, che si era anche lui, ha dichiarato particolarmente scontento di questa situazione, perché è una situazione che scontenta un po' tutti, scontenta l'insegnante, magari che viene dalle regioni del Meridione, che vorrebbe essere vicino a casa, che prende magari uno stipendio che non è sufficiente per vivere da pendolare, ma scontenta anche la scuola di un'altra regione dove magari si rischia un continuo avvicendamento sulle cattedre e quindi di interrompere la continuità didattica. Quindi è una situazione paradossale che scontenta tutti. Esiste un problema endemico, dobbiamo risolverlo, non si può risolvere l'imperio con un atto, con la penna, con una semplice nota di un Ministro. Però c'è un impegno da parte del Ministro. Noi siamo molto coscienti della difficoltà enorme a cui fanno fronte molti docenti. Immagino che la comunità scolastica capisca bene che è stato fatto un danno in una serie di anni su un problema che comunque esiste, a questo si è aggiunto un danno, non è facile riuscire a mettere riparo a questo danno con un'azione unilaterale da parte di un Ministro. Si rischierebbe di fare esplore la scuola.